attenzione sta succedendo sta succedendo sotto i nostri occhi e proprio adesso di che cosa sto parlando di una decisione pesantissima dello zio bill che avevamo già capito che voleva che il 2025 diventasse l'anno di windows 11 ma da essere l'anno di windows 11 si è trasformato nell'anno di windows 11 24 h2 con attacchi potentissimi alle build precedenti ma anche e soprattutto degli sgambetti decisamente sleali ai danni di windows 10 viene infatti forzato l'aggiornamento alla 24 h2 di windows 11 e microsoft se n'è uscita con un articolo in cui ha deciso che l'aggiornamento da windows 10 a windows 11 non sarà gratuito per sempre sarà vero non sarà vero andiamo a capirlo insieme e soprattutto vediamo anche come porre rimedio alle diverse situazioni e quindi se ti senti pronto iniziamo ma ormai lo sai che un video non è un video senza il nostro consueto rituale apotropaico che serve a tenere a bada quelle gran birichine delle nostre carissime amiche le divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va c'è da dire che se in questi giorni ci azzardiamo a leggere le testate di settore c'è veramente di che farsi cadere le braccia e iniziamo con questo articolo molto dettagliato di punto informatico che ci chiarisce nei minimi dettagli una situazione molto importante che potenzialmente riguarda tutti noi o meglio tutti coloro i quali non hanno ancora effettuato l'aggiornamento a windows 11 24 h 2 vediamo cosa si dice l'articolo titola windows 11 24 h 2 aggiornamento forzato da 23 h 2 e 22 h 2 sarà vero andiamo a leggere il termine del supporto ufficiale per la versione 22 h 2 di windows 11 è scaduto l'otto ottobre 2024 come sappiamo mentre quello della successiva 23 h 2 è previsto per l'undici novembre 2025 e fin qui tutto bene molti utenti tuttavia sono ancora fermi a queste edizioni del sistema operativo microsoft ne è consapevole e ha iniziato a forzare l'aggiornamento alla più recente 24 h 2 vale a dire che non appena possibile il download e l'installazione saranno avviati in automatico e a confermarlo è proprio una nota pubblicata all'interno di un documento ufficiale in cui si legge quanto segue naturalmente la software house fa riferimento ai dispositivi idonei ovvero a quei pc che soddisfano i requisiti minimi per l'aggiornamento alla 24 h 2 tieni a mente questo dettaglio perché tra un po' potrebbe rivelarsi molto utile ma andiamo avanti il testo di microsoft dice che è stata raggiunta una nuova fase nell'implementazione graduale della versione 24 h 2 e che i dispositivi idonei che eseguono le edizioni home e pro di windows 11 nelle versioni 23 e 22 h 2 verranno aggiornati gradualmente alla versione 24 h 2 e non c'è niente da fare microsoft precisa inoltre che non sono interessati a questo aggiornamento forzato i computer gestiti dai reparti it delle aziende insomma ce l'ha solamente con noi privati e l'articolo si conclude con una chiosa molto interessante che ci dice che il supporto ufficiale di 24 h 2 ormai disponibile da alcuni mesi scadrà il 13 ottobre 2026 ma microsoft è già al lavoro sulla versione successiva e cioè la 25 h 2 che vedremo arrivare nella seconda metà dell'anno tra gli obiettivi per il 2025 ci sono quelli finalizzati a spingere le vendite dei copilot plus pc che dopo un debutto terrificante hanno fatto registrare un brusco stop delle vendite e a promuovere l'upgrade da windows 10 che sarà ufficialmente abbandonato il 14 ottobre di quest'anno come sappiamo ma che ancora assorbe la quota maggiore di tutto quanto il market share le iniziative fin qui messe in campo dal gruppo di redmond come sappiamo oltre che estremamente altalenanti e per certi versi imbarazzanti si sono rivelate insufficienti e qui già mi sento nelle orecchie potente e rimbombante l'urlo della community che mi dice ma se io non voglio passare a windows 11 24 h 2 come posso fare beh ti dico due cose la prima è che una mia previsione da quattro soldi e che microsoft si rimangerà questa sua decisione anche se portata ai danni dei soli utenti privati secondo me ci sarà una tale sommossa popolare che saranno costretti a tornare sui loro passi cosa che peraltro hanno fatto spessissimo nell'ultimo periodo ma se questa mia previsione da quattro soldi non dovesse andare a buon fine come ci si può comportare beh premesso che non ti consiglio assolutamente di sospendere ad oltranza gli aggiornamenti perché naturalmente la cura sarebbe peggiore del male stesso e metterebbe fortemente a rischio il tuo pc il mio consiglio se proprio non vuoi passare alla 24 h 2 è quello di entrare 4 4 nel bios del tuo sistema e disabilitare il tpm a costo di un piccolo decremento di sicurezza abbastanza trascurabile visto il fallimento del tpm avrai la possibilità di avere una macchina non compatibile con windows 11 24 h 2 e quindi in questo caso problema risolto con poca spesa e tanta resa ma una notizia che davvero mi ha mandato fuori dai gangheri quando l'ho letta è stata questa ce la dice hardware upgrade windows 11 l'aggiornamento da windows 10 non sarà gratis per sempre microsoft in calza microsoft intensifica gli sforzi per la transizione a windows 11 enfatizzando l'urgenza dell'aggiornamento gratuito prima della fine del supporto per windows 10 nel 2025 aggiornamento gratuito che non sarà disponibile per sempre e l'articolo continua dicendo che come era già stato anticipato da questa testata microsoft cercherà in tutti i modi di convincere gli utenti di windows 10 a passare al nuovo windows 11 e questo ormai l'abbiamo capito perché l'abbiamo visto tentare in tutte le salse con tutte le tarantelle a cui abbiamo assistito anche pietose detto tra noi nei giorni scorsi del resto continua l'articolo ci sono diversi motivi validi per passare a windows 11 uno su tutti il fatto che rimanendo con windows 10 questo sistema diventerà presto vulnerabile alle nuove minacce di sicurezza e questa purtroppo è una verità sacrosanta di cui dobbiamo prendere atto attenzione ad una cosa ho sentito molti utenti nella community dire tanto io ci installo un bel antivirus guarda che non è la stessa cosa avere un bello o bellissimo antivirus e avere un sistema aggiornato le falle di sicurezza di un sistema operativo non possono essere tamponate da un antivirus l'articolo continua ancora dicendo che l'azienda cioè microsoft sta adesso accelerando gli sforzi sottolineando il fatto che l'opportunità di aggiornare gratuitamente è disponibile solo per un periodo di tempo limitato insomma o aggiorni adesso a windows 11 gratuitamente o sarei costretto a farlo in seguito a pagamento a quanto pare infatti lo zio bill ha designato il 2025 come l'anno dell'aggiornamento a windows 11 ricordando l'imminente conclusione del supporto per windows 10 un recente post sul sito web della tech community di microsoft ha delineato le opzioni per gli utenti che desiderano evitare di rimanere indietro una volta terminato il supporto mainstream di windows 10 dichiarando che l'operazione può essere svolta gratuitamente adesso ma non sarà così in un futuro non meglio specificato ma siccome tra i miei mille uno difetti annovero anche quello di non fidarmi di una singola testata giornalistica sono andato a fare due ricerche purtroppo sulle testate italiane non ho trovato alcuna notizia in merito ma ne ho trovate parecchie invece sulle testate inglesi stiamo guardando in questo momento pc magazine che nella sua versione inglese ci dice che microsoft fa marcia indietro dopo aver indotto negli utenti l'idea di una fine agli aggiornamenti gratuiti a windows 11 andiamo a leggere un pochino meglio quest'articolo ma facciamolo traducendolo in italiano ok ecco fatto quello che leggiamo in un articolo originale è sostanzialmente quello che abbiamo appena letto nell'articolo di hardware upgrade ovvero che sul blog di microsoft è stato pubblicato un post in cui si suggeriva una certa urgenza di passare a windows 11 perché il passaggio a breve in un tempo non determinato sarebbe diventato a pagamento tuttavia su questo articolo leggiamo anche un interessantissimo aggiornamento che ci dice che udite udite microsoft ha eliminato il suo post sul blog che segnalava che il percorso di aggiornamento gratuito a windows 11 avrebbe potuto scadere l'azienda ha detto a pc magazine che il post sul blog conteneva informazioni imprecise e un titolo fuorviante e che l'aggiornamento gratuito a windows 11 rimane invece assolutamente invariato ha aggiunto microsoft ma se pensi che la nostra telenovela si concluda qui sei ben lungi dalla verità infatti microsoft ha tentato un ultimo colpo di coda e questo è decisamente confermato ce ne parla multiplayer punto it dicendo che microsoft annuncia lo stop al supporto office su windows 10 un'altra mossa per spingere windows 11 ma no ma che malpensanti leggiamo l'articolo vediamo che microsoft ha annunciato la fine del supporto alle app di office su windows 10 a ottobre 2025 invitando gli utenti ad aggiornare tanto per cambiare ancora una volta a windows 11 nell'articolo leggiamo anche che questa decisione implica che tutti utenti e aziende che utilizzano le app di office dovranno necessariamente aggiornare i propri dispositivi a windows 11 per continuare a ricevere supporto e aggiornamenti sebbene infatti le app di office continueranno a funzionare su windows 10 anche dopo la fine del supporto microsoft avverte che potrebbero verificarsi problemi di prestazioni e di affidabilità sui dispositivi e che inoltre gli utenti potrebbero ritrovarsi una testa di cavallo mozzata nel proprio letto insomma a quanto pare siamo tutti quanti costretti prima o poi ad aggiornare le nostre macchine windows 10 a windows 11 ma per le macchine non supportate qualora tu voglia fare comunque l'aggiornamento non farti problemi abbiamo visto mille iso e mille ancora ce ne saranno che ci consentono di lavorare su windows 11 in maniera egregia discreta e veloce anche su macchine non proprio velocissime ti lascio qui in alto un video tra i tanti in cui ne abbiamo parlato sul canale che può esserti da guida in questa eventuale transizione qualora tu decida di farlo ma passiamo subitissimo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono dedicati e indirizzati proprio tutti quanti a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima